Ieri, durante il trattamento del presupposto per l'assunzione sociale di lavoro mandatario, ora ho confrontato con diverse domande, diverse dissertazioni da parte dell'opposizione. Una domanda è un cardinale che mi chiedeva di elaborare il budget e la posizione dei Biroi Sostenibili, che è importante, e mi chiede che è poco noto nel positivo dei debatti di ieri, e mi chiedeva di avanti, per il motivo che tutti i persone del Parlamento, del Stato Parlamento, non hanno fatto ricordo con l'altro l'importanza di elaborare il Biroi Sostenibili. L'importanza del Biroi è un accordo tradizionale, quindi è una nota di cambio di parte del Ministro, che è un accordo di alocare più fondo, così non può disegare in un'altra forma più optimale. con un Banda, per realizzare un mese, con un Biroi Sostenibili che è importante, dieci anni passati a tenere un workgroup, con un Banda di lavoro, che è un Biroi che è un desplegato, che è un centrale punto, per lo che è un meldere di chi è andato in cui è andato in Aruba, non è un desplegato di lavoro, ma con una capacità di personale più buona, e la nota di cambio di Ciudadano Ministro, di Asunto Non Sociale, è allocare fondi non è disponibili, per assinare qui, per avere un personale, per avere un livello extra, per contribuire del team di Biroi Sostenibili, quindi la banda di una fraccia, di un'opposizione, ci sono un'altra parola, per avere un Biroi Sostenibili, di trecere in maniera somente profissional, e il valore agregato per il Biroi, che il Biroi si è andato in cui si è andato in cui continuano, nel momento in cui si tratta il cambio di Codigo Civil, ci sono un Dio e le pregunte, non c'è un Dio, un Dio parte, che è andato in cui si deve prendere il dialogo 100%, il cambio del Articolo 243 del Codigo Civil, per il Biroi si tratta, molto pronto, in sala di Parlamento, è la tarda, è stato un'altra domanda di come la tarda si non è tanto, però non so che ora è già l'aspetto di come la tarda, però vanno qua qui per l'alante, che però qui lo haia tutto se necessario per proseguire e desplegare un lavoro buonissimo con l'antapinta escegliendo.